...soprattutto l'infanzia, l'infanzia abbandonata. Noi consideriamo che questa generosità che proviene dall'Italia sia una forma di cultura, la cultura della solidarietà e quindi abbiamo voluto in questa maniera celebrarla perché siamo orgogliosi di questa generosità e siamo orgogliosi di tutte le persone che qui in Romania offrono qualcosa, offrono soprattutto se stessi agli altri. E quindi concludiamo questa giornata in maniera gioiosa, quindi con un concerto di musica popolare. Quindi vi auguro buon divertimento, se qualcuno poi domani sera vuole nuovamente ascoltarli c'è la possibilità di un secondo...